Per la casa e l'azienda, officina la nuova vetrina. La nuova vetrina si occupa della costruzione e dell'installazione di infissi in alluminio, zanzariere, porte corazzate, cancelli di sicurezza e opere di carpenteria metallica in genere. I materiali impiegati, la lavorazione artigianale e gli oltre 40 anni di attività ci permettono di fornire un servizio sempre all'avanguardia. La nuova vetrina si trova a Verona, frazione Montorio, in Diamonti 8-B, telefono 045 55 70 21.